Il 14 febbraio di 7 anni fa, Marco Pantani fu trovato morto nella stanza D5 del Residence Le Rose di Rimini, dove aveva tentato di sfuggire inutilmente all'inferno che si portava dietro dal giorno di Madonna di Campiglio. E pensare che alcuni anni prima di quel tragico febbraio del 2004, Marco aveva vissuto momenti di felicità in un'altra stanza d'albergo, in Toscana, in un rifugio segreto che per uno scherzo beffardo del destino si chiamava la Valle dell'Inferno. Come è iniziata la tua amicizia con Marco Pantani? Tramite un amico in comune, un certo giumbo, un ragazzo di Cesena che lavorava nelle discoteche della zona. Una sera ha portato questo ragazzo, 1993-94, ancora direttante, ma già famoso nel mondo del ciclismo. Ci siamo conosciuti e da lì è nato per me l'amore della bicicletta e per lui l'amicizia con il Frasca era lì non è più finita fino al 2004 che non è successo il fattaccio. Lui veniva qui nei momenti liberi? Tutte le settimane quando aveva i momenti liberi, quando non si allenava e quando non aveva l'impegno del Tour de France, il Giro d'Italia, la Vuelta, tutto quello che ha fatto Marco nella sua carriera. Stava qui 4-5 giorni, 6, o andavo io da lui a Cesenatico e stavo 3-2 giorni, un giorno da lui. Si stava a cena insieme, si stava fuori insieme. Questa è la camera dove ha dormito Marco per tutto il tempo che veniva qui e che stava qui. Ha trovato anche l'amore nei primi anni iniziali? Sì, una ragazza che lavorava qui come cameliera, si sono conosciute qui dentro, si sono fidanzate e hanno fatto insieme 2-3 anni. Si chiamava Sabrina, ho visto momenti felici e sereni e spensierati e da campione proprio. Alcuni anni della sua vita tra i personaggi più conosciuti nel mondo e più importanti del mondo. Era impossibile farsi vedere fuori, era impossibile uscire con lui, si nascondeva. Quando eravamo insieme eravamo sempre nascosti e anche camuffati. C'è un episodio particolare di questo camuffamento, un compleanno vissuto insieme a lui sotto mentite e spoglie, insomma. Sì, un compleanno vissuto con lui, 25 invitati soltanto, era il suo 25esimo compleanno, credo sia stato il 1998 dove c'erano tutti i personaggi invitati e dove lui ha dovuto nascondersi per non farsi riconoscere. Questa è la sua sciarpa. Questa era la sciarpa che lui utilizzava sempre perché era un suo portafortuna, quando era fuori dal mondo della bicicletta era il suo portafortuna. E lui qui aveva trovato un rifugio perché all'epoca nessuno sapeva che c'era Marco Pantani? Infatti, nessuno lo conosceva. Era un posto dove poteva venire tranquillamente, sia anche quando entrò nel 1994 da direttante a professionista, era sempre un posto dove il Val D'Arno pochissimi riuscivano a riconoscerlo. Com'è saputo della sua morte? L'ho saputa in diretta telefonica da un amico in comune. È morto, credo, alle 18 e 30 di 14 febbraio del 2004. Io l'ho saputo dopo un quarto d'ora, 20 minuti, direttamente da Cesenati. E dopo l'ha dato alle 7, le 8, l'ha dato la televisione. Alle 19, le 20, l'ha dato la televisione, i telegiornali. Parlavi della sua fragilità. Tu che ci hai vissuto accanto nei momenti di spensieratezza, si intravedeva questa delicatezza nel carattere? Sì, si intravedeva. Si vedeva che era un ragazzo fragile, debole, vergognoso, complessato dal farsi vedere, dai suoi orecchi, dai suoi capelli che non aveva. Era continuamente, per quello l'ho conosciuto io, fragile anche per i complessi che aveva. Si sentiva brutto, piccolino e quindi la buttava fuori. Questa è stata la mia impressione sempre. Non è che magari fosse stata così, però era la mia impressione. E nei momenti del trionfo, giro, tour? In momenti di trionfo è stata la persona più generosa che io abbia conosciuto, perché ha fatto di bene a tutti quelli che ne sono girati intorno.